Ciao Irma, vedi Irma, io vorrei presentarti, questi sono tutti i miei concittadini, sono i miei concittadini. Pensate, Irma è venuta qui in Toscana, il marito di Irma è un grande tenista, ma più che un grande tenista, pensate. Qui è nella regione del Chianti e invece tuo marito so che vende acqua, cioè, momento, non vende acqua, vende acqua dolce, cioè, e lui sarebbe, lo posso dire, è il presidente di tutti gli stati latini della Canedia Andrai, sai quell'acqua, il ginger, bisogna avere il vino, Irma, bisogna che in Messico dire a tuo marito che venda il vino, il vino del Chianti, il nostro vino che è il migliore del mondo. Senti Irma, io pregherei i Bettini, i fratelli Bettini, che sono la fine del mondo. Alberto e Alberto, io vorrei che tu ci cantassi qualcosa. Ecco, 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 dunque, che cosa ci canti Irma? Eh, scusa, mio italiano, però io non parlo italiano. Questa è una canzone, una delle più belle canzoni messicane, che si chiama, molto vecchia, che si chiama Cucurrucucu, paloma. Senti Irma, questa canzone la vuoi dedicare a tutti quelli che ci ascoltano? Grazie a tutti e grazie, grazie mille, grazie mille a Narciso, che mi ha permesso, donato l'opportunità di stare, di stare con, di stabilire contatto con un pueblo al che ho admirato tanto. in Florencia, un lugar in il che todo artista sueña con stare, por lo menos una vez, in la vida. Esto, para mi, ha sido la mejor experiencia de muchos años. Grazie a Narciso. Avete capito che ha detto? Ha detto? Ha detto, io non parlo, non parlo spagnolo, ma lo capisco, ha detto che tutti gli artisti, almeno una volta, tutti gli artisti del mondo, tutte le persone del mondo, almeno una volta nella vita, sognano di venire a Firenze. Noi te ne siamo grati e ti ringraziamo. Grazie. E cediamo a microfono a Irma Cardon, questa meravigliosa creatura che è venuta a trovarci, così dando un volto internazionale al nostro grillo canterino di questa sera. Grazie al Mecico, a Irma Cardon e ai fratelli Bettini. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.